E' arrivato il momento che i Cagliari entrino all'elena Fai il suo ingresso sul ring All'anno blu il cospirante al titolo italiano dei pesi Super Verder Da quarto santele da Cagliari Luciano Bazzucca E' arrivato il momento che i Cagliari Gagliari Gagliari E' arrivato il momento che i Cagliari Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.